Settimana cruciale, forse decisiva per le sorti societarie della nocerina calcio. C'è un moderato ottimismo per la risoluzione della crisi, ma è sempre corsa contro il tempo. Ad inizio dicembre, infatti, molti calciatori, soprattutto i più esperti, potrebbero chiedere di svincolarsi dalla società, con il conseguente impoverimento dell'organico a disposizione di zavettieri. Per questo motivo si lavora per chiudere la trattativa di passaggio societario. Varie le ipotesi sul tavolo. Al momento la più gettonata resta quella di Aniello Pappacena, che all'ex presidente della Sarnese, con un passato dirigenziale nella nocerina, piaccia il calcio e argomento risaputo. Domenica scorsa un suo emissario era presente al San Francesco per accelerare la trattativa. La soluzione numero due prevede la formazione di un gruppo di imprenditori locali che garantirebbe la stabilità economica fino al 30 giugno. Ci sarebbe così più tempo per gestire il passaggio societario. È la soluzione caldeggiata dal sindaco Paolo De Maio, che si è posto l'obiettivo di dare la nocerina ai nocerini. Il primo cittadino sabato scorso ha rassicurato la squadra, prima della gara interna contro il Fasano, sulla risoluzione della crisi societaria. Per sua stessa ammissione, invece, perde terreno la pista Raffaele Neutta, attuale presidente della Fragolese. Nei giorni scorsi, inoltre, sono giunte sempre al sindaco De Maio richieste di informazioni da altre persone, ma al momento al riguardo sembrano notizie rilevanti. Intanto, dopo la vittoria contro il Fasano, la squadra è a lavoro per preparare il derby contro il Gladiator. Altra gara vietata ai tifosi.